Good morning Milano, eccoci qua, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, giovedì 9 maggio, sono le 7.09 e come tutti i giovedì iniziamo una puntata di Good Morning Milano, c'è realtà come tutti i giorni, però tutti i giovedì lo facciamo effettivamente, è vero, dal lunedì al venerdì ci trovate qui, basta accendere la vostra radio, andare su 96.2 FM e dire, questo è Cristal Radio, potete anche non dirlo, noi lo diciamo al posto vostro se volete, oppure con il Dan Plus, oppure con l'app per iOS Android, oppure con il sito internet, cioè veramente non potete, cioè non c'è una scusa per non ascoltarci, quindi voi siamo qua e fateci compagnia, anzi, 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 facciamoci compagnia a vicenda, 331-78-535-55, il nostro numero di Whatsapp, scriveteci, mandateci foto, fate quello che volete con questo numero, fatene buon uso e noi racconteremo un po' la nostra città quest'oggi con i giornali, poi parleremo di teatro, lo sapete, il giovedì parliamo sempre di teatro, oggi inizia la Civil Week, stiamo nel pieno appunto delle ore che precedono l'inizio della Civil Week, che andremo in giro a raccontare, domani poi vi racconterò già un po' che cosa abbiamo visto nella giornata di oggi, andremo in giro, quindi troverete poi tutti i vari video su Milano News, insomma tantissime cose, insieme al Centro Servizi per il Volontariato di Milano, andremo a coprire, insieme anche a Share Radio, tutto quello che è la copertura, cioè tutto quello che è la settimana del civica, del volontariato, dell'associazione, delle fondazioni, insomma tantissime cose, questi tre giorni a Milano. Get up, stay up, get up for your right, Bob Marley, 7 e 14 minuti di oggi, giovedì 9 maggio, giornata che doveva essere una giornata di sole, anzi, leggo al Whatsapp che ci ha mandato Alberto in questo momento, una buona giornata a tutti i cristallini, al buon Fabio che ci tiene compagnia ogni mattina, buon tanto tanto piacere lo faccio, quindi ci mancherebbe. Giornata di sole, eh, Alberto non qua, Alberto non qua, qua a San Siro in questo momento pioviginava, c'è tutto bagnato in giro, ma in realtà una pioggia che non senti, se cammini ma che ti trovi, non so se è un'umidità che si consolida nel momento in cui tocca il suolo, non lo so, sta di fatto che insomma non è proprio bellissimo, non dovrebbe piovere, oggi, le previsioni non davano pioggia per oggi, quindi tutti eravamo contenti, tutti abbiamo steso i panni e invece c'è tutto bagnato fuori. Speriamo che nella giornata appunto vada a migliorare perché non, possiamo dire, non se ne può più, cioè, no, allora ben vengano le piogge, se servono, se fatte bene, cioè, se fatte bene, non so come dire, cioè così che piove un po' alla cavolo e poi dopo le culture vengono allagate, perché poi il problema è quello, cioè che la natura dovrebbe avere un suo equilibrio, quindi deve piovere, ma poi non deve piovere, deve far caldo, ma non troppo caldo, cioè, è difficile, cioè, l'equilibrio del sistema in cui viviamo è molto precario, è molto difficile, cioè, qualche centimetro d'acqua in più, cioè qualche goccia d'acqua in più, qualche raggio di sole in più e tutto va a saltare, tutto va, non funziona, no, cioè, non si può alterare troppo questo sistema, ormai invece sappiamo benissimo che è molto alterato e quindi è complicato, adesso vedremo cosa succederà con tutte queste piogge che sono venute in questo periodo, poi pioverà ancora oppure non pioverà più poi fino a ottobre, quindi è questo, non aiuta sicuramente, nel nostro piccolo, cioè, pensate, nel nostro piccolo non aiuta a stendere i panni fuori quando abbiamo fatto una lavatrice, no? Pensate nell'agricoltura, in tutto quello che sono la produzione del cibo, che comunque, anche se sempre di più in maniera industriale viene fatta spesso in sera e cose del genere, in realtà c'è per fortuna ancora chi invece la fa nei campi, chi deve produrre il grano e tutto il resto, appunto, e il clima è fondamentale perché si riesca a fare le cose fatte bene, quindi, vabbè, scusate questa piccola nota, sarà perché sto guardando su Amazon Prime Video The Clarkson Farmer, la terza stagione della fattoria Clarkson, Jeremy Clarkson, non so se lo conoscete, quello che faceva Top Gear, quello che fa Grand Tour, quelli che andavano in giro con le macchine e inquinavano tutto il mondo, adesso ha avuto una svolta green, in realtà molto interessante perché non è ambientalista di nascita, ma poi pian pianino nel dover vivere la terra e farla diventare anche il suo nuovo lavoro, appunto, scopriamo tantissime cose interessanti, se non l'avete visto io ve lo consiglio, The Clarkson Farm, terza stagione, guardatevi anche le altre due, è molto divertente, lui, vabbè, il solito mattacchione, un po' comico, con questo suo umorismo british, attorniato da un bel gruppo di altri personaggi interessanti, dal fattore Cooper Caleb, giovanissimo, ad altri, c'è l'amministratore, no, che viene chiamato l'uccello del malaugurio perché ogni volta che arriva c'ha brutte notizie su tasse da pagare o permessi da chiedere, cose del genere, poi c'è la moglie, poi ci sono tutti gli amici, c'è il signore che gestisce e mette a posto i muretti a secco, che parla una lingua strettissima del crossworld, credo che siano la loro zona in cui vivono, insomma, datti un'occhiata, così, su Prime Video, The Clarkson Farm, terza stagione, e invece andiamo a vedere com'è il traffico oggi, pioggia o non pioggia? I Gorillaz con Baby Queen alle 7.22 e quando incominciamo ad andare a leggere un po' i giornali e una notizia che troviamo su Cruella della Sera Milano è una sorta di compleanno, anzi, una ricorrenza, siamo ben contenti di raccontarla perché Emergency, e sì, Emergency proprio, compie 30 anni e la Presidente Rossella Miccio dice, nel mondo combattiamo le guerre, a Milano la povertà, tante mamme italiane sole non hanno da mangiare. La storia, quella di Emergency, molto, molto importante, è nata ormai, appunto, 30 anni fa la ONG, in questo caso, potremmo chiamarla, che appunto opera in tutto il mondo e c'è un'intervista interessante a Rossella Miccio che da 24 anni, appunto fa parte della ONG ed ora è la Presidente di Emergency. C'è un'intervista, lei in questo momento si trova in Sudan e quindi racconta un po' quello che sta facendo, ma appunto, 30 anni fa nasce, lo sappiamo, dalla mente di Gino Strada questa interessantissima realtà che nasce per portare supporto nelle emergenze nel mondo, ma da qualche anno sappiamo bene essere anche a Milano, perché sappiamo esserci, non solo a Milano, cioè proprio anche in città, perché ci sono delle situazioni, appunto, che sono molto emergenziali, forse appunto, questa è la parola giusta da utilizzare. Infatti una delle domande che viene fatta alla Presidente è, oltre alle guerre, Emergency contrasta anche la povertà qui a casa nostra e dice, sì, la povertà che cresce in una città come Milano è un'emergenza da affrontare importante. Abbiamo iniziato ad occuparci durante la pandemia, grazie al progetto Nessuno Escluso, pensato perché si trova in difficoltà sanitarie e socio-economiche. Se c'è bisogno affrontiamo l'emergenza, distribuiamo pacche alimentari, ma l'obiettivo è andare oltre l'assistenzialismo, aiutare queste migliaia di persone a rendersi autonome, per esempio, appunto, trovando un lavoro. Non viene citato, ma secondo me è una delle cose più interessanti che fa Emergency, la clinica mobile. A Milano esiste una clinica mobile che gira in alcune piazze, ogni giorno si sposta, ogni settimana, quindi ritorna poi in alcune piazze, ad esempio noi l'abbiamo visitata un paio di volte in Piazzale Selinunte, che porta l'assistenza sanitaria a quelle persone che sono tagliate fuori dal sistema sanitario nazionale, e ce ne sono tante, che vivono nella nostra città, o, e a me questo l'ha sconvolto ancora di più, a quelle persone italiane, adulte, che non sanno che esiste il sistema sanitario nazionale, e non sanno che hanno dei diritti e anche delle possibilità di fare visite presso il sistema sanitario nazionale, semplicemente appunto avendo un codice fiscal e una testa sanitaria. Questa informazione, alcune fasce di quella popolazione non la sanno, non sono consapevoli che esiste questo diritto, un diritto costituzionale, un diritto che tutti quanti noi a volte anche diamo per scontato, e spesso volentieri, anzi, ci incavolghiamo se non è come vorremmo, giustamente anche. Ecco, a me è la cosa che ha sconvolto di più delle cliniche di emergency, delle cliniche mediche mobili di emergency in città, non è tanto quello di aiutare le persone che magari sono appunto arrivate, sono arrivate clandestinamente nel nostro paese, sono immigrazioni complicate, per cui serve un aiuto, perché sono rimaste tagliate fuori appunto da qualche livello burocratico, diciamo. No, quello che mi ha sconvolto è proprio quello dell'idea di gente che nasce e cresce in questo paese, adulta e non sa che esiste un diritto come quello della sanità pubblica. Ma questa cosa veramente è povertà, capite, non solo fisica, non solo monetaria, non solo economica. Michael Jackson con Thriller, le 7.35 minuti, bentornati qui in diretta su Crystal Radio. Sì, vi ho tolto la risetta satanica, era più inquietante la mia voce che entrava su Thriller, no? Che dite? Vabbè, comunque, che pezzo. Michael Jackson sempre nei nostri cuori, siamo ben contenti di farvelo ascoltare ogni tanto la mattina, così per darci l'energia giusta, se siete in giro a Milano oggi, occhi aperti, perché, diciamo, da Corriere della Sera a Milano, Adam Sandler ha spasso per Milano con Bagel, che è il suo bulldog, non è un beagle, è un bulldog inglese, caffè, autografi e foto con gli ammiratori increduli. Ebbene sì, perché l'attore più pagato di Hollywood, non sapevo che Adam Sandler fosse l'attore più pagato di Hollywood, comunque così dice Corriere della Sera, l'attore più pagato di Hollywood sta girando un film con l'amico e collega George Clooney. Pochi giorni le riprese alla stazione centrale di Milano. E quindi ieri è stato visto in giro in una camicia, non voglio fare lo stylist di Adam Sandler, comunque in una camicetta azzurra e un paio di pantaloncini, da tipico turista americano girava per la città, ed è stato appunto beccato, dai, beccato, insomma, incrociato per strada, da varie persone che increduli hanno detto, ma quali sembra quello del film? Ma è lui? Ah, ma è Adam Sandler? Io poi vorrei sapere quanti hanno detto lui è Adam Sandler, oppure hanno detto ah, lui è quello che faceva questo film o quest'altro film, quindi vabbè, voglio capire quanti sanno il nome e cognome. Comunque, sì, è il divo più pagato di Hollywood, dice Corriere della Sera, perché nel 2023 ha fatto 73 milioni di euro di guadagno. Non male, direi Adam, complimenti. Bella roba. Appunto, fuori dal suo hotel, che era palazzo, mi piace che non lo scrivono, però mettono le foto e si vede che era palazzo Parigi. Quindi, vabbè, comunque si capiva. Quindi, zona centrale, vicino a Monte Napoleone, lì dietro per intenderci, dietro Brera, anzi, più dietro Brera, infatti. Comunque, caffè alla mano, insieme al suo canne, appunto, Bagel, che è un bulldog inglese, girava tranquillo per il centro della città, e, appunto, ha ricambiato l'affetto dei suoi fan, con selfie, autografi, tutto quello. Appunto, solo qualche giorno, perché in questi giorni si trovava a Caorso, in Emilia Romagna, insieme a George Clooney, per le riprese di un nuovo film. Le tappe di questo film hanno in mezzo anche la stazione di Caorso, appunto, perché, sai, sulla linea Piacenza-Cremone, stanno, appunto, girando questo film insieme. Il set cinematografico è stato allestito anche alla stazione centrale di Milano, dove la coppia di attori è stata avvistata al binario 20, con vestiti anni 90, tra lo stupore dei fan che li hanno ripresi con il cellulare. Adesso si sposteranno, perché andranno tra il 17 e il 30 maggio, tra il 17 e il 30 maggio, vanno in Val d'Orcia, a Pienza, ad Arezzo, in Toscana, da quella zona lì, e continuano, appunto, a fare questo film, che, appunto, sarà di prossima visione su Netflix. Oltre a Clooney e Sandler, ci sono anche Laura Dern, la nipote di Elvis Presley, Raleigh Cogue, figlia di Lisa, appunto, Lisa Marie e Danny Cogue, e l'italiana Alba Rochbacher. Qual è? Alba Rochbacher? 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 Come si chiami? Comunque, va bene. Titolo provvisorio del film è J. Kelly, ma, insomma, potrebbe anche cambiare... Vabbè, sai di fatto che se girate in giro per la città e beccate uno con la... Ah, no, magari si è cambiato, eh. Però tutto vestito da turista americano, è molto probabilmente un turista americano, ma potrebbe anche essere Adam Sandler, quindi dateci un occhio, se vi interessa fatevi il selfie, l'autografo e poi raccontatecelo. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Avanti con la musica, Red Hot Chili Peppers, Hometown Gypsy. Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers, Hometown Gypsy. Hometown, la nostra città, la nostra città dove abbiamo la casa, Milano, Milano che è sempre nella mossa del traffico, l'abbiamo detto prima con Luce Verde, ma dobbiamo andare a leggere anche una notizia, perché è successo un patatrack sulla tangenziale est di Milano, perché leggiamo da Milano Today, articolo di questa mattina alle 6 e mezza, ma la situazione è ancora critica e si sta andando a delineare meglio la situazione, ma comunque in maniera critica. Travolto in tangenziale a Milano, un uomo morto. Traffico in titte dopo l'incidente. Non è chiara la dinamica dell'incidente né il perché ci fosse questa persona a piedi. Tra il fatto che un uomo di 41 anni è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la tangenziale est di Milano, la 51. Questa mattina all'alba l'incidente è avvenuto nel tratto tra l'uscita 7 Rubattino e l'uscita 88A dei Segrate Lambrate in direzione nord. Il personale sanitario è arrivato sul posto alle 5.20 di questa mattina con due equipaggi che non hanno potuto far niente per salvare la vita del pedone. 41enne dell'Agenzia regionale Emergenza Urgenza hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automobile in codice rosso. Presenti in questo momento anche gli agenti della polizia stradale di Assago per i rilievi per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente né il perché ci fosse questa persona a piedi in quel tratto di strada. Il traffico lungo l'atteria è rimasto bloccato per ore e ancora adesso non è messo meglio perché alle 6.30 si registravano oltre 3 km di coda ma adesso andando a vedere su luceverde.it non è messa meglio la situazione nel senso che davvero sono code in tutti i tratti in questo momento tra parentesi è veramente complicata la situazione in quel punto oltre al traffico normale che già di solito rende diciamo rossa la mappa di luceverde anche questo incidente non aiuta. In più ci sono altri incidenti segnalati sempre su quel tratto di tangenziale quindi direi che questa mattina anzi appena adesso è arrivato un altro un altro incidente all'altezza appunto di vediamo nel tratto compreso tra Svincolo, Lambrate, Melso Dogana, Segrate Svincolo, Gobba, Trevini direzione ok allora c'è io fossi in voi questa mattina la tangenziale est non la prenderei così a naso è di solito disastrosa la situazione ecco questa mattina è ancora peggio è tutta rossa rosso scuro in entrambe le direzioni quindi fossi in voi penserei a un altro giro penserei a trovare un'alternativa allargata prendete la Tem come è messa la Tem vediamo come è messa la Tem no la Tem è messa bene non c'è troppo traffico sulla Tem un po' di traffico in uscita dai vari Svincoli ma non è così quindi forse in voi mi sposterei da l'altra parte perché è davvero complicata oltretutto la situazione è veramente ci sono dei tratti chiusi corsiere corsieri strette per via di questo incidente ripetiamo è avvenuto questa mattina alle ore 5 e mezza sì alle 5 e 21 sono arrivati quelli sono arrivati i sanitari quindi siamo intorno alle 5 di questa mattina e ancora adesso la situazione è veramente veramente disastrosa dal punto di vista del traffico chissà poi perché cosa è successo adesso poi lo scopriremo nei prossimi giorni mi raccomando fate attenzione appunto e prudenza in quella zona soprattutto se potete evitare di prendere la tangenziale est questa mattina e ovviamente anche in questo momento c'è la paulese anche la paulese completamente imballata ma anche la strada per Vimodrone insomma sono tante sono tante quelle che le vie e le strade che risentono del traffico in questo momento molto molto intenso sulla tangenziale est poi dopo di che non è che sulle altre tangenziali non ci sia nessuno in giro no però vabbè insomma si riesce ancora a sopravvivere lì è veramente complicata la situazione se potete evitate di prendere la tangenziale est questa mattina sia in direzione nord che in direzione sud in entrambe le direzioni completamente imballata completamente bloccata Franco Battiato centro di gravità permanente 7 e 51 minuti a pochi secondi dalla nostra pausa del giornale radio del Cristalistori e poi dopo invece torneremo con gli ospiti di giornata parleremo di teatro insieme a Tamara Malleo insomma questa è appunto la nostra mattinata ed è tutto quello che ci raccontiamo sempre qui il giovedì a Good Morning Milano mi ricordo il nostro numero di cellulare 331 7853555 è il nostro numero di Whatsapp devo dire il nostro numero del telefonino che c'erano il nostro numero di Whatsapp messaggi audio potete mandarci quello che volete foto video tutto quello che volete in questa giornata che ha smesso di piovere chiedo alla regia farai che arriva sì Maria dice che ha smesso di piovere perfetto ok quindi adesso finalmente può iniziare la nostra giornata di sole speriamo che tenga durante tutta la giornata in questo momento 16 gradi su Milano quindi le temperature comunque in rialzo speriamo appunto che tenga il tempo in tutto 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 il weekend perché insomma noi abbiamo bisogno di un bel weekend di sole senza rotture di scatole possiamo andare a farci quello che vogliamo ad esempio anche magari un bel giorno in un parco ascoltando la radio ad esempio perché? perché sabato vi ricordo che c'è la festa per i 40 anni di Crystal Radio la maratona la maratona di Crystal Radio dalle 8 del mattino fino a sera una staffetta una maratona staffetta di speaker nuovi e di una volta la nuova era e gli storici di Crystal Radio tutti insieme per festeggiare questo traguardo pazzesco e bellissimo che Crystal Radio appunto vuole commemorare con questa maratona ma poi comunque appunto è solo il primo di tanti compleanni che festeggeremo insieme quindi davvero sabato mattina rimanete sabato primamente collegati con noi tutto il giorno la mattina se ci avete voglia ci siamo anche noi alle 8 del mattino così per darvi la sveglia anche il sabato se avete voglia voglio capire chi è alle 8 del mattino però è bello festeggiare alle 8 del mattino pensate vi svegliate un sabato alle mattino alle 8 e già state festeggiando un compleanno che bello solo su Crystal Radio vi possiamo dare questa emozione il Radiorama con Allianz alle 8 e 07 di oggi giovedì 9 maggio questo era il Crystal History di oggi il Crystal History delle 8 lo sapete ogni ora a ogni punto così dicono quelli bravi c'è un Crystal History c'è una canzone del nostro passato che di solito è quella che cantiamo più a squarciagolo che bagliamo con più enfasi anche ma diamo il benvenuto perché oggi è giovedì e parliamo di teatro diamo il benvenuto alla nostra bellissima abitudine che ha il nome di Tamara Malleo buongiorno Tamara buongiorno Fabio buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio di Good Morning Milano allora l'abitudine del teatro continua continua e questa settimana ci sono veramente tanti appuntamenti quindi ho dovuto scegliere allora in questo momento è in corso al teatro filodrammatici il festival Lecite Visioni un festival che tradizionalmente ormai da più di 10 anni si svolge al teatro filodrammatici siamo in centro accanto alla scala quindi fermata metropolitana Duomo Cordusio facilmente raggiungibile Lecite Visioni è un festival multidisciplinare e contemporaneo formato da spettacoli di prosa danza performance realizzati da compagnie italiane e straniere dall'anno scorso il festival è stato affidato a Michele Di Giacomo che è un bravissimo attore regista e drammaturgo e chiaramente tutte le diciamo così le narrazioni all'interno di questo festival sono legate all'affermazione dei diritti delle battaglie LGBTQ ma non solo nel senso che è un festival che permette di attraversare i temi scelti dal festival in tutte le sue forme quest'anno il tema scelto è l'amore e tu dirai beh l'amore però è un tema diciamo così che ritorna beh però l'amore è come ha detto lo stesso direttore del festival è una forza che attraversa le esistenze in forme differenti quindi l'amore ci permette di guardare l'umano nella sua complessità nella sua diciamo così in tutte le sue nature in tutte le sue forme e ci permette di entrare dentro dinamiche molto intime molto personali per poter arrivare a raccontare la verità delle sensazioni delle emozioni in tutte le sue forme senza filtri in qualche modo non posso chiaramente farvi tutto l'elenco dei tantissimi appuntamenti che riguardano questo festival però ve ne voglio ricordare soltanto due uno perché coinvolto appunto il direttore del festival perché Michele Di Giacomo con Angelo Di Genio che è un altro bravissimo attore stasera debutteranno con uno spettacolo in prima nazionale nel senso che questo testo non è stato mai messo in scena e sarà appunto da stasera fino a sabato 11 maggio Nascondevo ghiaccio sotto le mie ardenti carezze è un progetto appunto originale diciamo così di Michele Di Giacomo e Angelo Di Genio ed è veramente una storia molto interessante che riguarda anche la letteratura perché coinvolge Emile Zola basta a voi puoi scoprirlo in che modo e come e poi sempre stasera ci sarà un appuntamento secondo me da non perdere perché ritornano in scena con un loro classico diciamo così Anna Gaia Marchioro e Roberta Lidia De Stefano che tornano in scena questa sera con la Metafisica dell'Amore che è un spettacolo che le ha portate al successo come duo e che poi le ha portate ad una carriera diciamo così singola personale e tornano dopo appunto dieci anni con questo loro classico poi veramente ci sono tantissimi appuntamenti fino a domenica 12 maggio quindi veramente da seguire quindi teatro filodrammatici metropolitana rossa fermata Duomo o Cordusio poi bello pregno come devo dirvi che anche nei giorni precedenti perché il festival è partito martedì veramente molto pregno e poi vabbè questo voglio sempre ricordarlo un festival è composto veramente da tantissime persone per poter portare avanti un festival cioè la collaborazione di tutti e in questo caso io voglio ringraziare Marta Pedrolli perché si occupa della comunicazione e comunicare un festival non è facile nelle sue varie forme e nelle sue varie forme di comunicazione quindi anche l'impegno che ci mettono per arrivare al risultato è importante poi ci spostiamo ci spostiamo perché domani sera c'è un appuntamento imperdibile in un posto di cui vi ho già parlato che si chiama Aprecu si trova in Porta Romana quindi raggiungibile con la metropolitana gialla e quindi in zona diciamo così centrale proprio accanto insomma come zona vicino al teatro Franco Parenti Aprecu è un luogo dove appunto si può cibare il corpo ma si ciba soprattutto la mente perché è una zona di proscenio molto bella in cui Laura Tassi si occupa della parte del teatro e domani sera ci sarà Alice Francesca Redini che è un'attrice spettacolare che io ho conosciuto in molti spettacoli di prosa ma adesso lei si sta dedicando anche alla stand up quindi la trovate anche a Zell all'area Zellig insomma in molti appuntamenti di stand up e domani sera invece porta un monologo Emma Goldman e io molti di noi io stessa non conosceva Emma Goldman che è una attivista anarchica che ha la sua diciamo così frase di riferimento è se non posso ballare non è la mia rivoluzione e allora ci si chiede qual è la nostra rivoluzione e quindi Alice Francesca Redini col suo piglio ironico e divertente ci porta in un'analisi profonda sul senso della rivoluzione quindi apre Q via della Braida zona porta romana metropolitana gialla facilmente raggiungiamo anche col 9 insomma ci sono molti mezzi che raggiungono questa zona poi per chiudere ci spostiamo leggermente perché andiamo a Monza al Teatro Binario 7 che è un presidio culturale della zona di Monza e in questo caso vi parlo di una compagnia che mi sta molto a cuore perché la seguo dalla sua nascita che è Compagnia Caterpillar che porta in scena uno spettacolo molto interessante sia piena come un uovo la loro nuova produzione si parla di del rapporto con il cibo di quanto è sano o di quanto è influenzato dalla società il nostro rapporto con il cibo soprattutto ma non solo in relazione alla donna quindi quanto la donna è soggetta poi a delle riflessioni appunto sul cibo e su quello che il cibo ha come riferimento rispetto a se stesso e al proprio corpo sono quattro ragazze che raccontano appunto il proprio rapporto con il cibo sono quattro donne molto diverse fra loro che hanno un rapporto molto diverso fra loro con il cibo e a volte ne sono diciamo schiave inconsapevoli o ne sono fruitrici in maniera passiva o anche attiva ma soggette a influenze diciamo così esterne quindi come sempre la compagnia Caterpillar lo fa con grande leggerezza lo fa con grande ironia però va in profondità in questo caso il testo non è loro perché di solito loro portano dei testi originali cioè i testi scritti da loro in questo caso invece è per la prima volta portano il testo di una autrice statunitense che si chiama aspetta che me lo ritrovo che si chiama Lisa Lampanelli che per la prima volta viene rappresentata in Italia con la traduzione di una autrice molto famosa in ambito teatrale che è Monica Capuani mi dico soltanto in scena ci sono Denise Brambillasca Gaia Carmagnani Ilaria Longo e Valentina Sicchetti guidati dalla regia di Luigi Aquilino e Eugenio Fea quindi davvero uno spettacolo che secondo me parla a tutti e tutte e ci permette di fermarci e pensare anche al nostro rapporto con il cibo e a quanto veniamo influenzati da ciò che ci circonda quindi tre appuntamenti diversi in tre zone molto diverse abbiamo coperto tutta la città brava Damara sai che questo mi piace sempre che riusciamo a far diventare l'abitudine del teatro anche un tour intorno alla nostra città così che chiunque io non ci sono più scuse per non andare perché diceva è lontano no perché noi ti diciamo quello vicino a casa tua l'altro puoi dire che è lontano ma quell'altro invece è vicino a casa tua ci si può anche spostare perché poi alla fine insomma a Milano ci si sposta un attimo un attimo si può raggiungere molte zone di Milano Tamara grazie grazie dei tuoi consigli grazie delle tue indicazioni ricordaci anche dove possiamo seguirti dove possiamo approfondire questa abitudine insieme a te grazie Fabio come sempre allora l'appuntamento con Teatro Mania è il venerdì alle 16 e 40 fino alle 18 su Milanao canale 191 del digitale in streaming su www.mediapason.it slash Milanao o il lunedì su Antenna 3 canale 11 sì canale 11 alle 23 e 30 e trovate un po' diciamo il riassunto della puntata del venerdì appuntamenti per dialogare insieme e per parlare sempre di teatro e non solo non solo il teatro appunto brava Tamara che lo dici ma soprattutto non è solo Tamara Tamara ha sempre degli ospiti pazzeschi andiamo a conoscere io sono soltanto un ponte per arrivare invece a chi veramente ha insomma ai protagonisti del teatro della letteratura e del di ciò che avviene a Milano e non solo se il nostro Virgilio all'interno del paradiso non esageriamo diciamo così ci abbassiamo un pochino perché non mi sembra però c'era Caronte potremmo scegliere quello anche volendo però Caronte ti porta poi in un mondo appunto quindi decidi tu chi volevi essere dei due va bene dai grazie Fabio o potreste anche semplicemente se no essere il Google Maps del nostro del nostro teatro va bene una volta abbiamo detto come si chiamava Tom Tom pensate non si usa più basta superato superato se dico una frase leggenda molti non la capirebbero pensate il nostro Tom Tom io sì però infatti noi sappiamo di cosa stiamo parlando bene Tamara dai grazie mille allora buona settimana buon lavoro buon weekend buon tutto ci vediamo davvero nella prossima giovedì prossimo con ancora dell'abitudine allora va bene certo buona settimana anche a voi agli ascoltatori e ascoltatrici grazie mille grazie mille Tamara Malleo l'abitudine del teatro Gianni Russo Gianni Russo con un'estate al mare oggi giovedì 9 maggio 2024 data importantissima adesso non l'abbiamo detto questa mattina l'apertura perché vi dimentico poco volte si sposano con il tenore della nostra trasmissione ma nel 1978 appunto oggi scompariva veniva trovato il cadavere di Aldomoro nella famosa Renault rossa no Renault 4 scusate nel Renault 4 nel bagagliare della Renault 4 di via Caetani ricordate appunto anche la famosa telefonata delle Brigate Rosse che rivendicavano la scomparsa e davano l'indicazione per ritrovare il corpo dell'onorevole Aldomoro spesso mentre ci si dimentica che nello stesso identico giorno però veniva anche ammazzato dalla mafia Peppino Impastato e da una radio forse ancora più importante senza non la togliere appunto l'onorevole Moro senza non la togliere a tutte le altre vittime del terrorismo e della mafia però da una radio effettivamente ricordare Peppino Impastato nel giorno della sua scomparsa è importante ricordiamo appunto Peppino con le sue dirette radiofoniche in cui aveva denunciato tantissime tantissime persone in cui denunciava tutto quel sistema mafioso che impermeava la sua città il suo paese la sua Sicilia e poi appunto nella notte nella stessa notte in cui poi verrà trovato il cadavere di Aldomoro verrà appunto fatto uccidere fatto uccidere appunto dalla mafia e Peppino Impastato comunque appunto nei cento passi famoso film ma anche canzone di Rumble potete rivedere ascoltare un po' e capire meglio che personaggio era avvenimenti tanti oggi di questo tenore insomma è sempre complicato poi passare ad altri tenori in questo caso parliamo di musica però perché invece oggi proprio oggi nasceva 74 anni fa Billy Joel ebbene sì Billy Joel 75 anni fa nel 1949 nasceva Billy Joel cantautore pianista musicista nato appunto a New York il 9 maggio del 1949 oggi riceverà tantissimi auguri perché faccio questa battuta perché riceverà anche penso non so anche in che rapporti è ma avrebbe quattro mogli da cui potrebbe ricevere gli auguri perché Billy Joel si è risposato quattro volte nella sua vita ha iniziato nel 73 e ha finito nel 2015 sposandosi con varie signori che appunto sono iniziati per un periodo breve o più lungo la signora Joel quindi tanti auguri a Billy Joel tanti auguri anche alle sue mogli e quindi non possiamo che andare avanti ascoltandoci proprio Billy Joel insomma ricordate mi ricordo la canzone di Billy Joel Billy Joel ha fatto veramente la musica la storia della musica degli anni 80 è uno di quelli che era sulla cresta dell'onda per dirlo a qualcuno di adesso Justin Timberlake non lo so no forse Bruno Mars cioè quella gente lì capite non era uno era uno di quelli che veramente riempiva gli stadi o riempiva comunque i luoghi per i concerti 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo cioè comunque uno davvero di quelli importanti magari meno conosciuto dai da quelli di oggi dai più giovani da quelli magari un po' più distratti ma davvero uno di quelli che Billy Joel non ricordate che non so c'era Piano Man Honestly New York State of Mind nasce da una sua canzone ad esempio c'è Precier Bien Turn the Lights Back On c'è tantissime She's Always a Woman c'è tantissime tantissime canzoni sono appunto diventate storia per grazie appunto al pianoforte grazie a lui lui appunto nasceva come pianista poi diventa cantautore e diventa davvero uno dei grandi della musica degli anni 80 che appunto poi è arrivato fino a noi con la sua musica che è sempre sempre quindi andiamo ad ascoltarcelo con un brano storico di Billy Joel che è Uptown Girl alle 8.25 qui su Crystal Radio Claudio Baglioni mille giorni di te di me alle 8.35 qui su Crystal Radio nel giorno del compleanno di Billy Joel abbiamo detto poco fa e appunto ci ha scritto Nello dicendoci la prima volta che ho fatto l'amore c'era Billy Joel Honesty vedete ecco ma allora scusate un attimo apro una parentesi so che siamo in fascia protetta quindi devo stare attento a quello che dico ma anche non è la prima persona che mi racconta di ricordarsi che canzone c'era la prima volta che ha fatto l'amore allora io non me lo ricordo minimamente tanto che mi ricordo dove ero e cosa stavo facendo perché c'è un attimo non è proprio semplice capire in quegli stanze un po' di defiance non dico neanche come ti chiami ma soprattutto io non mi ricordo boh poi l'ultima cosa che pensavo è che musica mettere su sinceramente avevo tanti altri guai a cui stare dietro a controllare voi vi ricordate qual era la canzone che c'era la prima volta che hai fatto l'amore non so neanche se c'era una radio non so neanche se ero in una casa non so neanche dove ero sinceramente in quel momento 3317853555 ditemelo perché davvero sono curioso di questa cosa che boh mi piace è molto romantica come pensiero però vi giuro è come quella cosa che vi sposate la prima volta di nozze ma cosa la prima volta di nozze hai dormito come non so che cosa perché eri distrutto ti facevano male i piedi la schiena puzzi come una carogna perché hai sudato tutto il giorno ma non è vero la prima volta di nozze ci hai dato dentro ma dato dentro cosa cos'è che dice qua ah vedete non è l'unica non è l'unico Nello anche Erika ci scrive io mi ricordo che c'era Roma was a million a day ma nel senso in che senso cioè in quell'istante cioè mentre vanno tutti ricordi che c'era Roma was a million a day io non mi ricordo niente cioè se c'era nell'aria che il giorno prima in radio l'ascoltata può essere io non lo so nel 96 cosa si ascoltava ma non lo so boh cioè non ne ho la minima idea ma Nello si ricorda anche il primo bacio The Sound of Silence ma questi erano i sogni che ti facevi Nello cioè questo ti sarebbe piaciuto poi ti svegliavi la mattina e pensavi che fosse in realtà cioè non ci credo che cioè vi ricordate il primo bacio io scusate adesso non vorrei insomma allora la mia vita che cioè non va bene cioè volete che vi racconto il mio primo bacio il mio primo bacio l'ho dato dietro un cassonetto della pattumiera cioè vedete voi cioè come posso rendere romantica questa roba qui ero in vacanza studio in Germania in scusate in Inghilterra Brighton e sì con una ragazza del Montenegro però eravamo dietro un cassonetto per non farci vedere degli altri cioè nel senso boh non lo so sì ecco Erika mi conferma che sì nell'istante in cui faceva l'amore per la prima volta c'era Rome was a built in a day vabbè dei Morciba sarò l'unico io che non sa io non so adesso faccio un po' di telefonate e vado a chiedere se si ricordano che cosa c'era ecco no mi ricordo con chi l'ho fatto quello sì già può essere un buon punto di partenza adesso la chiamo e sento senti scusa so che non ci sentiamo da vent'anni ma volevo chiederti ti ricordi per caso le canzone c'era quando allora conoscendo i personaggi che c'erano in quel momento cioè io e lei secondo me Giovannotti così a naso però vi dico la verità non ho idea di che cosa poteva non lo so ma non c'era neanche la musica ragazzi cioè ma non lo so io avevo paura di qualsiasi cosa cioè no non lo so sono contento per voi sono contento per voi sono contento per voi Nello mi dice mi ricordo perché era una festa e ballavo il fatidico lento ah vedi e quindi con The Sound of Silence è partito il limone ecco 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 ah giustamente che dice dai brava brava chiama ma chiama vediamo se ti risponde così a naso secondo me non mi risponde nemmeno secondo me ha il mio numero ma non mi risponde nemmeno così eh a naso occhio come dire vabbè comunque sono storie di vita passata che ci hanno segnato e se adesso la vita è triste anche no non è vero anzi se adesso la vita è migliore anche perché siamo usciti da quelle situazioni comunque andiamo avanti 3317853555 e andiamo avanti con la musica non so se qualcuno l'ha fatto la prima volta l'amore con questa canzone nel caso vi facciamo una grande ola perché stiamo parlando di Gianni Morandi con la ola scusate ma ho chiesto una cosa ma Gianni Morandi finisce dicendo nola in questa canzone ce l'ho capito bene dice gli angeli fanno la ola a nola comunque non lo so forse ho capito male io questo era Gianni Morandi la ola continuano questo tema effettivamente continuano i i whatsapp sul tema la canzone che c'era la prima volta che ho fatto l'amore e ovviamente nello dice comunque c'è da farci una puntata solo su questo effettivamente sì evidentemente io non ho chiamato comunque nel fuori onda dopo questa notizia non ho osato chiamare chi c'era lì la prima volta sto pensando perché poi il casino grosso è che la prima volta si spera nel senso poi dopo magari delle volte dopo si abbiate confidenza no ma la prima volta si spera che siate solo in due cioè nel senso che non ci sia altra gente o testimoni quindi non è facile trovare chi vi può ricordare che canzone c'era quella volta lì non lo so o meno che avete la musica a palla e quelli della stanza di fianco non lo so è complicato io adesso mi avete messo in crisi questa mattina non ho idea voi invece dai vi ricordate che canzone c'era la prima volta che avete fatto l'amore o dai va bene anche quella del bacio secondo me è un po' più facile effettivamente sono avuto in una generazione magari la mia quella prima che magari scattava in discoteca scattava alla festa e quindi comunque ovviamente c'era un momento lento si approfittava e si andava lì e poi con l'occhio languido così del playboy consumato cadevano ai tuoi piedi e tu li raccoglievi dandogli un bacio no? mai successo proprio mai cioè questa era l'idea che avevamo in testa a noi la nostra idea era questa la verità è che andavi lì con il tuo apparecchio i tuoi brufoli i tuoi occhiali sporchi e la guardavi gli facevi pietà e a quel punto allora ti dava un bacio a stampo se ti andava bene perché il limone prima che partiva ce ne voleva si usa ancora a dire guardo la regia in questo momento che sono tutte nati prima del 2000 si usa ancora limonare? si si usa ancora perfetto va bene va bene spinello si usa ancora no giusto così per capire non ho capito mia mamma legava le due cose non ho mai capito perché legava le due cose Maria non sa cos'è spinello ah no ok diceva spinellare e non ho mai capito perché legasse le due cose nel contesto che diceva ma non è necessariamente cioè non è che devo per forza per fare l'altro o l'altro no però lei legava nel contesto le due cose forse perché erano due parole da giovani forse per quello allora limonare spinellare parole da giovani adesso come si dice flexare quelle robe lì non c'entra niente sono parole da giovani forse per essere giovani usava queste due parole così un po' nel contesto insieme che effettivamente non c'entrava molto comunque va bene se ve lo ricordate se avete voglia di condividere con noi 331 7853555 è appunto la prima volta che avete fatto l'amore il primo bacio se vi ricordate che canzone c'era così perché magari io vi ripeto non me lo ricordo minimamente però magari voi siete più bravi di me e ve lo ricordate va bene andiamo con un po' di musica lui sicuramente quando cantava negli anni 80 c'era quasi sempre qualcuno che partiva a limonare con qualcun altro è diventato forse non so dovremmo dargli la medaglia per quante coppie ha fatto mettere insieme per quante persone si sono amate con la sua musica lui è Rick Astley con Never Gonna Give Up You Rick Astley Never Gonna Give You Up alle 8.48 minuti Crystal Radio Good Morning Milano avete limonato su questa canzone qualcuno qualcuno sarebbe fantastico se qualcuno ha limonato per la prima volta su questa canzone mentre non la mandavamo in onda sarebbe fantastico sarebbe no troppo vedo in regia Elisa dice troppo così è troppo sì effettivamente vabbè ma più che altro perché siete dei vecchi voi che ci ascoltate ve l'ho detto ve l'ho detto caro mio pubblico vi amo ma so che siete solo un po' agé spesso e volentieri quindi insomma mi auguro che abbiate almeno una volta nella vostra vita almeno dato già un bacio perché sennò saremo veramente a dei livelli un po' così patologici quasi mi farebbe da dire comunque no magari avete rimembrato invece il momento in cui quella volta quella lì che voi proprio avete amato e poi a un certo punto invece vi ha baciato questa è un'altra puntata interessante segniamocela quella del mi è sempre piaciuta quella tizia lì non mi ha mai voluto ma poi dopo anni ce l'ho fatta ad esempio o il contrario mi è sempre piaciuto quel ragazzo lui non mi ha mai cagato non mi ha mai voluto non mi ha mai baciato non mi ha mai considerato poi ci siamo rivisti dopo 15 anni 20 anni ci siamo guardati lui mi ha guardata e mi ha detto je t'aime mon amour e mi ha preso tra le sue braccia ad esempio cioè succede così non so mi è mai successo qualcosa del genere io ho degli ascoltatori in questo momento che stanno ascoltando e quindi non posso dirvi se mi è successo o no però nel senso potrei raccontarvi cose ma non posso perché c'è gente che ascolta che non deve ascoltare comunque va bene anzi saluto a tutti coloro che ascoltano in questo momento oggi vi ricordo appunto giovedì inizia la civil week che va avanti tutto il weekend sabato scusate domenica finisce con la bici civica che è una grandissima biciclettata in giro per la città cercate bici civica e iscrivetevi tanto è gratuito ed è veramente veramente bello ma soprattutto ricordatevi che sabato invece è il compleanno di crystal radio 40 anni e sentirli benissimo nel senso sentire bene quali alla radio capito noi siamo lo slogan deve essere quello 40 anni e sentirci benissimo questo devi fare perché Milano si sente quindi buon compleanno crystal radio tutto il giorno dalle 8 del mattino fino a sera una grande maratona staffetta di tutti noi speaker in diretta su crystal radio 8 55 minuti giovedì 9 maggio volge il termine la puntata odierna di good morning Milano oggi inizia la civil week appunto e quindi iniziamo ad andare in giro per la città più di 420 422 mi sembra di aver visto l'ultimo conteggio sta di fatto che ne copriremo alcuni e alcuni vi racconteremo vedrete le nostre stories vedrete le nostre dirette i nostri video tutto quello appunto che volete Milano News lo troverete in giro poi nei prossimi giorni così che potremo raccontarvi tutto ma ricordatevi che sabato c'è l'appuntamento più importante sabato mattina alle 8 siamo lì a raccontarvi il quarantesimo compleanno di crystal radio anzi dalle 8 perché io inizio alle 8 insieme al mio amico Ambrogio Curti ma poi andiamo avanti anche dopo tutto il giorno i speaker si alterneranno in una staffetta in diretta appunto su crystal radio e Sant'Ambrogio Curti arriva anche dopo di noi con senti questa ebbene sì la musica nazionale internazionale raccontata spiegata e soprattutto fatta ascoltare appunto anzi fatta sentire d'Ambrogio Curti senti questa dopo di noi dopo il giornale radio qui su crystal radio grazie a tutti per oggi e per la vostra compagnia noi ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 sempre qui su crystal radio perché questo è Good Morning Milano il morning show vostro il morning show dei milanesi ciao a tutti ciao ciao ciao